Il picco del calendario sarà il 25 settembre 2023 quando nel porto di Salerno arriveranno contemporaneamente tre navi da crociera, ma secondo il programma presentato questa mattina in una conferenza stampa saranno in 70 da arrivare a partire dall'8 aprile. Toccherà alla riviera di Oceania Crucis inaugurare la nuova stagione crocieristica nel porto di Salerno. Sabato sbarcheranno così in città i primi turisti del nuovo anno e l'arrivo della prima grande nave da crociera proprio nell'imminenza della Pasqua sarà di augurio per tanti piacevoli sorprese nel corso della lunga stagione presentata oggi. L'anno 2023 per Salerno e la sua stazione marittima sarà dunque quello del definitivo rilancio delle crociere anche grazie ai tanti interventi che hanno reso appetibile ed accogliente il porto come ha ricordato il presidente dell'autorità di sistema portuale del martirreno centrale Andrea Annunziata. Lo straordinario è questo avere 11 approdi di 11 navi da crociere che arriveranno il giorno prima e partiranno il giorno dopo. Questo significa far trattenere i turisti in città ed è importantissimo questa è la formula dell'home port cioè si parte e si arriva a Salerno. 69 sono le crociere come dicevamo ma quelle come dire programmate ma ce ne saranno sicuramente altre si parte l'otto sabato e si dovrebbe finire io spero che non si finisca mai il 6 dicembre per cui raccogliamo tutto l'anno e l'appello è agli amici salernitani a tutti quanti il turista che andrà via ci farebbe piacere che vada via come è successo fino ad oggi con un ottimo ricordo della città dell'accoglienza e così anche per questo faremo grandi numeri nel futuro. Noi siamo pronti con le infrastrutture come dicevo prima quindi l'elettrificazione delle banchine in corso sarà uno dei porti più moderni e organizzati del Mediterraneo avremo possibilità importanti. offriamo al turista una città e un territorio un porto che è efficiente non solo nell'accoglienza ma anche sul piano della tutela dell'ambiente e della sicurezza. Un ulteriore tassello per lo sviluppo della portualità salernitana e dall'aumento delle crociere non può che trarre beneficio tutto il territorio sia in termini economici che in termini di sviluppo turistico. C'è un giorno comandante in cui addirittura arriveranno tre navi, stazione marittima e porto contemporaneamente, lei è preoccupato? No assolutamente no, rientra nei nostri compiti, nei nostri doveri, dovremo soltanto garantire la sicurezza della navigazione, la sicurezza dei passeggeri e di tutti coloro che appunto prendono imbarco su queste unità.